Prove di dialogo in corso tra il sindaco di Barletta Mino Cannito e gli otto consiglieri dissidenti della sua maggioranza. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere vicino un accordo che consentirebbe di superare almeno in parte la situazione di stallo che perdura da quasi tre mesi, nata in seguito alla spaccatura in due fazioni della coalizione al governo della città. Come noto, gli otto consiglieri, in dissenso con il sindaco, chiedevano l'assegnazione di due assessorati della presidenza del Consiglio e di quella della Barsa. Potrebbero essere accontentati al momento con due postazioni nell'esecutivo cittadino. Per la lista Cannito sindaco entrerebbe in giunta il suo coordinatore, Ruggero Passero, al posto del dimissionario Reginaldo Seccia, mentre Michele Cigniero sarebbe l'indicazione della lista iniziativa democratica. Verrebbe congelata la presidenza del Consiglio, che a questo punto potrebbe essere assegnata alle opposizioni. PD e Movimento 5 Stelle hanno mostrato apertura rispetto a questa ipotesi, purché a promuoverla sia la maggioranza compatta o con ampi numeri e non frazionata come appare al momento. Per riequilibrare la presenza di donne in giunta, Cannito avrebbe chiesto alla consigliere Stella Mille di Forza Barletta di entrare in esecutivo al posto di Giovanni Cito, che le subentrerebbe in consiglio in quanto primo dei non eletti. Se la consigliere Mille dovesse confermare il suo rifiuto, toccherebbe al coordinatore della lista Forza Barletta, il senatore Dario Damiani, trovare un'altra donna da inserire nell'esecutivo. Anche l'assegnazione della presidenza della Barsa viene congelata dal sindaco in attesa che il Consiglio Comunale si esprima sulla possibilità di riaffidare la guida della società ad un consiglio d'amministrazione, eliminando la figura dell'amministratore unico. Per andare avanti ed evitare ulteriori frazionamenti, Cannito ha inoltre chiesto che tutte le liste della maggioranza si esprimano a sostegno del progetto civico che ha portato la coalizione alla vittoria delle elezioni.